Per approcciarsi in tutta sicurezza in ghiacciaio sono fondamentali tre punti, il primo è quello dell'attrezzatura, il secondo dell'abbigliamento, ma il terzo che forse è quello più importante è quello delle competenze. Per sviluppare delle competenze è necessario seguire dei corsi che sono offerti dal CAI, da Club Alpino Italiano, o se no affidarsi a delle guide alpine che personale esperto. Quando chiaramente mi affido a una guida alpina o a un gruppo del CAI o dell'Alpenfrain ho un esperto con me il quale poi mi dice quando è ora di tornare o quando è ora di rinunciare a una certa cima, a una certa gita. Noi come Soccorso Alpino chiaramente consigliamo di rinunciare quando le condizioni non sono ideali. Il tipo di attività che viene fatta insomma al tipo di attività quale quella alpinistica presenta dei rischi intrinseci che non sono mai annullabili. Con l'allenamento, con l'informazione, con la preparazione tecnica è possibile limitare di moltissimo questi rischi che però non possono mai essere annullati proprio per il tipo di attività che viene effettuata in alta montagna. Sicuramente quando andiamo in ghiacciaio abbiamo tutta una serie di dispositivi di sicurezza che sono molto importanti. Iniziamo con i ramponi, con la picozza, chiaramente il casco, l'imbrago per fare anche le cordate perché ricordiamoci noi dobbiamo legarci uno all'altro per prevenire a un'eventuale caduta in un crepaccio. L'abbigliamento chiaramente ricordiamoci che saliamo a delle quote di 3 o 4 mila metri sopra il livello del mare e quindi può fare anche molto freddo in quota. Un aspetto fondamentale della pianificazione di un'uscita poi durante tutta l'uscita è quello della valutazione costante delle condizioni meteorologiche e la valutazione costante delle condizioni anche morfologiche del terreno.